Buongiorno, che cos'è il diritto? Intanto c'è, fa parte della nostra vita, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Il diritto è un insieme di regole e non ne rispettiamo tante quasi in automatico. Quando viene sera accendiamo la luce, ma questo accade perché seguiamo la regola di pagare la bolletta, anche se per pagare la bolletta non leggiamo il codice civile prima. Usciamo per strada, ci mettiamo alla guida della nostra auto, a meno che non viviamo nel Regno Unito, non prendiamo la corsia di sinistra. Anche qui seguiamo una regola, ma prima di metterci al volante certamente non rileggiamo tutto il codice della strada. Ma se è così semplice, perché tanto spesso le leggi sono violate? Perché i diritti non sono rispettati? Perché talora non sono riconosciuti neanche da coloro che rivestono la funzione legislativa e il Parlamento o da coloro che per mestiere dovrebbero le norme applicarle e invece talora le inventano e anche di sbislacche, parlo dei giudici. Perché oggi, più che in altre epoche della storia, le norme del diritto vigente e quello che si chiama diritto positivo, in alcuni snodi essenziali, non rappresentano la natura dell'uomo, non la rispettano, in qualche caso la negano. Perché oggi, più che in altre epoche della nostra storia, il diritto si tiene lontano dalla verità sull'uomo in passaggi importanti. Perché da tempo al diritto viene conferito un fondamento diverso rispetto alla natura dell'uomo. Nel pensiero occidentale sono ormai secoli che una robusta corrente di pensiero individua, nella libertà individuale, il fondamento per legittimare la legge e la legge civile. La libertà individuale, secondo questo orientamento, avrebbe come solo limite la libertà dell'altro. Nella misura in cui si rispetta questa condizione, la libertà sarebbe giusta e quindi anche il diritto che ne è una proiezione. Il mosaico delle libertà dovrebbe essere il frutto del consenso espresso dalla maggioranza o, in una versione più aggiornata, dovrebbe essere il deliberato di un giudice o di ciò che viene da una realtà sovranazionale, come può essere l'Unione Europea. Beh, una logica simile, di fatto, al di là delle intenzioni, al di là delle proclamazioni, introduce la legge del più forte, sia all'interno di un singolo ordinamento statale, sia sul piano sovranazionale o internazionale. La forza può stare o nel numero, la metà più uno è sempre qualcosa di assolutamente giusto e indiscutibile, o nell'attività di un governo, conviviamo da mesi ormai con DPCM, o nelle sentenze, l'ha detto il giudice, vuoi metterla in discussione, o nel web, che è la nuova frontiera della democrazia, dove uno vale uno e tutti, in teoria, dovrebbero decidere tutto. Certo, è un argomento suggestivo, quello secondo il quale la vita sociale è fondata sul regolamento delle libertà dei singoli, ma i risultati che questo assioma ha prodotto ci soddisfano fino in fondo, e soprattutto, il richiamo a una legge agganciata alla realtà dell'uomo. Siamo certi che si potrebbe contro la libertà della persona. Qual è, in definitiva, il legame tra il diritto positivo e la legge naturale? Di questo parleremo nei nostri prossimi appuntamenti, ma ci lasciamo con Cicerone. Perché è significativo che nel Catechismo della Chiesa Cattolica, per esplicitare la nozione di legge naturale, chi si cita, San Tommaso, Sant'Agostino, un moralista, un teologo, si cita Cicerone, si cita un laico precristiano, il quale diceva nel modo più chiaro possibile esiste una vera legge, è la retta ragione, essa è conforme alla natura, la si trova in tutti gli uomini, è immutabile ed eterna, i suoi precetti richiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore.